Leonardo Silva Revisore Questa è Alissa. Quello che viene tra le mani è un portatile, con tanto di personalizzazione, per seguire le lezioni da casa. Questa foto ci è stata mandata dalla mamma di Alissa, con il seguente messaggio di accompagnamento. La mia piccolina stava giusto aprendosi e riprendendosi dopo il primo lockdown. Le messe mi dicevano che finalmente sembrava avere la lista che avevano in prima. Questa volta spero sia diverso. E grazie a voi riesce a seguire con più costanza e volentieri le lezioni. Grazie per il vostro impegno, per l'iniziativa e per la passione. Quel vostro fa riferimento a Matteo, Emanuele, Pietro e me. Con l'iniziativa, apc4u.tech, un'organizzazione no profit che si occupa della raccolta e della ridistribuzione di dispositivi usati, ma funzionanti, destinati agli studenti di Milano e Interland che non ne dispongono per la didattica distanza. L'intero progetto si basa su un sito web che si trova nell'indirizzo www.pc4u.tech attraverso il quale da una parte raccogliamo le donazioni da parte di private aziende di portatili o tablet e dall'altra le richieste di tutte quelle famiglie di Milano e Interland che hanno bisogno di un dispositivo per la didattica distanza per i propri figli. Attraverso questo progetto che noi quattro abbiamo fondato assieme nel giugno del 2020, all'età di soli 18 anni, siamo riusciti a coinvolgere positivamente tante diverse realtà e figure. Dalla parte delle donazioni collaboriamo sia con i privati che hanno vecchi dispositivi da donare, sia con le aziende che si possono volentieri hanno la necessità di smaltire grandi quantità di devices. Dalla parte delle richieste invece abbiamo collaborato con oltre 900 famiglie del Milanese che a causa di situazioni particolarmente difficoltose non possono permettersi di acquistare un dispositivo ai propri figli. Infine siamo riusciti a coinvolgere tutti quei migliaia di italiani e non solo che venendo a conoscenza della nostra iniziativa si sono sentiti felici e orgogliosi della propria gioventù. Dietro allo straordinario percorso che abbiamo avuto l'onore di intraprendere attraverso questo progetto, si ceda un processo profondamente radicato in miei esperienze personali che oggi vorrei condividere con voi. Tutto parte nel 2013 in prima media quando in occasione dell'open day della mia scuola la mia professoressa d'inglese invita noi studenti ad avversirci da ciò che vogliamo diventare da grandi e quindi recitare una breve frase di fronte ai genitori When I grow up, I want to be. C'è chi dice l'avvocato, chi dice lo scienziato, chi dice il rapper, chi dice il calciatore. Io scelgo di attraversirmi da Steve Jobs. Da grande voglio fare l'imprenditore. Per me l'imprenditore già ad 11 anni ne sono consapevole è colui che fa cadere le cose. È colui che contribuisce al bene più grande della propria comunità facendo accadere le cose. Questa mia spiccata passione per l'imprenditorialità è qualcosa che, tuttavia, terrò solo per me per svariati anni. A scuola, alle medie e tanto quanto a liceo, non sento il bisogno di condividere questo mio interesse perché non lo ritengo funzionale alla sfera personale e accademica che costituiscono la mia vita. In parole povere parlare di imprenditorialità mi mette in imbarazzo. Non mi sento mai all'altezza e penso che, comunque vada, nessuno capirebbe. Mi ci sono voluti sette lunghi anni per trovare il coraggio di condividere questa mia passione. E quello che è accaduto dopo è dell'incredibile. Ma come? Facciamo un ulteriore salto in avanti e giungiamo al 2016 quando scelgo di iscrivermi in uno dei scientifici più difficili non solo della mia città, Milano, ma anche dell'intero paese. Al terzo, nonché ultimo anno che passo in questa scuola, imparo una delle lezioni più importanti della mia vita. Mi rendo conto che il mio sentirsi felici, la mia felicità, la mia serenità, non possono dipendere dalla mia capacità di aderire ad uno stereotipo educativo che deviene uno studente capace di ottenere il massimo dei voti in ogni singola materia. Mi rendo conto che non fa per me investire ogni singolo frammento del mio tempo allo studio con l'obiettivo di aderire ad un futile stereotipo. Inizio invece a valorizzare la mia capacità di bilanciare la mia sfera personale con quella accademica. Mi rendo conto che il traguardo più grande che io mi possa porre sia quello di ottenere un ottimo equilibrio interiore. Mi ricordo infatti come i momenti che mi hanno fatto sentire più realizzato. Nel corso di quell'anno siano stati quelli in cui sono riuscito a investire del tempo nello sport oppure negli amici, ottenendo comunque voti alti in una scuola particolarmente tosta. Questa mia nuova scoperta viene messa ad ora a prova nel 2019 nel momento in cui scelgo di trasferirmi in Inghilterra per frequentare gli ultimi due anni del mio percorso liceale. Mi trovo in un contesto totalmente differente rispetto a quello a cui ero abituato da un punto di vista accademico. Passo da ricevere tra i 5 e i 7 voti settimanalmente al 2-3 per ogni materia nell'arco di un intero trimestre. Non ho più la sicurezza conferita da un ciclo continuo di feedback e devo pertanto arrangiarmi. Capisco quindi che il mio equilibrio interiore non solo dipende dalla mia capacità di bilanciare le diverse sfere che compongono la mia esistenza, ma anche dalla mia abilità di valutare il mio impegno senza che ci sia necessariamente qualcuno dall'altra parte capace di, attraverso i voti, indirizzarmi sulla retta via. D'altra parte, a partire da questo momento, la consapevolezza dell'importanza del mio equilibrio interiore mi dà la licenza di credere nei miei mezzi, mi dà la licenza di credere nel mio potenziale, la licenza di credere da solo nelle mie capacità. L'esperienza inglese mi porta ad un altro grande insegnamento. La mia scuola, in particolare il mio anno, presenta un certo numero di giovani musicisti, tutti molto in gamba. Tra di loro c'è anche un mio amico italiano, chitarrista, che, esattamente come me, ha scelto di frequentare gli ultimi due anni del liceo lontano da casa. Nel corso della parte iniziale dell'avventura ogni studente internazionale trova i propri modi di integrarsi con la nuova comunità. Paolo, è così che si chiama il mio amico, ha trovato un metodo unico. Ogni settimana si ritrova con i suoi colleghi musicisti nell'aula di musica e suona con loro il jazz. Ogni volta che esce da queste jam session, o meglio, performance musicali improvvisate, lo trovo entusiasta come non mai. Scelgo quindi di parteciparvi, incuriosito nonché affascinato anche dal genere, da quale tra l'altro sono particolarmente appassionato. E lì capisco tutto. Colgo il significato di passione condivisa. Tocco con mano la magia che si cria tra persone che condividono un interesse. Mi rendo conto della miriade di opportunità perse fino a quel momento, cercando di nascondere la mia più grande passione a coloro che avrebbero potuto valorizzarla. Capisco che esternare le proprie passioni non è futile, ma, anzi, non può che contribuire alla crescita delle medesime. Facciamo un altro passo in avanti, e arriviamo al maggio del 2020, quando l'idea di creare un sito web che permetta a chi ha dispositivi in più di donarli e che invece ne ha bisogno per aiutare le distanze di riceverli. Quando l'idea di fondare un'iniziativa no profit che si occupa esattamente di questo. Cosa faccio? Per la prima volta nella mia vita scelgo di condividere la mia più grande passione, sotto forma di bozza per un progetto, con qualcuno di fuori di me stesso. Ne parlo con Matteo. Nei suoi occhi riconosco immediatamente quella scintilla, con lo stesso entusiasmo che avevo intervisto nelle dita di Paolo mentre si muovevano freneticamente sulla sua chitarra. D'entusiasmo non può che nascere ulteriore entusiasmo. E io ci credo nel progetto, perché credo nel mio e quindi nel suo potenziale. ne parlo anche con Emanuele, ed è anche lui entusiasta. Anzi, Emanuele è così entusiasta che riesce addirittura a trasferire questo suo sentimento a Pietro. Riescegli di prendere parte nel progetto senza conoscere né me, né tantomeno Matteo. Eravamo un gruppo giovanissimo, con le idee molto poco chiare, ma con tanta, tanta voglia di buttarsi. Nel corso delle nostre prime chiamate su Google Meet tutto ciò si percepisce. Ma se con lì anche un grande entusiasmo, nel momento in cui faccio esperienza di quell'entusiasmo, capisco che questa è la strada giusta da percorrere. Abbiamo creduto così tanto nell'idea di credere nei propri mezzi che abbiamo fondato un'iniziativa che si occupa esattamente di questo. Dare ai giovani gli strumenti, i mezzi, per credere nel proprio potenziale attraverso l'esplorazione del mondo straordinario offerto dal digitale. E noi quattro, come gruppo, come pc4u.tech, condividiamo una filosofia di fondo che abbiamo cercato di rispecchiare nel nostro progetto. Fare del bene in modo sostenibile. Dove fare del bene vuole dire impattare positivamente la società in senso allargato. Gli studenti, le famiglie, le aziende, l'ambiente, le scuole, le mamme, i papà. A 11 anni volevo fare l'imprenditore. Voglio ancora fare l'imprenditore, sia chiaro. Ma a differenza di otto anni fa ho due consapevolezze in più. Uno, che la strada da percorrere sia questa. Quella dell'imprenditoria sociale, quella della sostenibilità, quella del fare del bene, dell'innovazione, del regalare opportunità, del digitale. Due, che non sono l'unico ad avere questa consapevolezza. Lo sa anche Matteo, lo sa anche Emanuele, lo sa anche Pietro. E da oggi mi auguro anche qualcun altro. Grazie. 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 Grazie.